Book 2 Vorrei fare un versamento sul mio conto. Vorrei fare un prelievo dal mio conto. Vorrei ritirare l'estratto conto. Vorrei incassare un assegno. Vorrei incassare un assegno. Quant'è la tariffa? Dove devo firmare? Sto aspettando un bonifico dalla Germania. Ecco il mio numero di conto. Sono arrivati i soldi? Vorrei cambiare questi soldi. Mi occorrono dollari USA. Per favore, mi dia banconote di piccolo taglio. C'è un bancomat qui? Quale somma si può prelevare? Quali carte di credito si accettano? Quali carte di credito si accettano? Visita il sito www.book2.de www.book2.de Per il libro e per i testi. Per il libro e per i testi.